Due anni fa abbiamo visto che questa strada di accesso al paese di Isola del Piano è franata, una frana molto importante che sta peggiorando. Stranamente, circa una settimana dalle elezioni comunali che sono svolte a maggio, un intervento della provincia, perché ricordo che la strada è provinciale, un miracoloso intervento della provincia prima delle elezioni. La strada non è stata sistemata, ma è stato sistemato il fiume sottostante. La strada sta accedendo in maniera vistosa e pericolosa, ricordo che è l'unica strada di accesso al paese di Isola del Piano. Quello che ci stupisce è il fatto che non siano state messe delle barriere di protezione. Quando prima delle elezioni sono fatti questi lavori, c'erano delle barriere metalliche che erano una forma di protezione. Finiti i lavori, improvvisamente queste barriere sono sparite. Ora la strada è completamente libera. Una carreggiata è franata, come potrete vedere dalle immagini, e c'è un grande pericolo per gli automobilisti. Ricordo che la popolazione di Isola del Piano è anche molto anziana. Quella strada di accesso principale al paese è pericolosissima. Tra l'altro c'è un'attività industriale, diverse attività industriali, tra cui un mobilificio che impiega tantissime persone che tutti i giorni percorrono quella strada. Abbiamo proposto una mozione che verrà discussa domani sera, dove chiediamo al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi con tutti i mezzi possibili e immaginabili verso la provincia per innanzitutto proteggere la strada e compiere dei lavori importanti. Se questo non venisse fatto, ci auguriamo che la maggioranza compatta e l'opposizione che seguirà possa anche rivolgersi alle autorità competenti per segnalare un pericolo vero e concreto per gli abitanti di Isola del Piano.